Questa è una delle storie incredibili che la nostra comunità abbia vissuto. Questa è la storia di Vietri che abbraccia il suo santo patrono. Questa è la mia storia. Nacqui nel tredicesimo secolo d.C. e dopo il concilio di Lione nel 1245 Papa Innocenzo mandò dei predicatori dei minori per attendere alla conversione di Carter. Io, Anselmo, ero a capo dei predicatori e fra Giovanni da Pian del Capine a capo dei minori. Fu una delicata spedizione missionaria. Raggiunsi di amare l'Egitto e la Palestina, quindi di inoltrare l'Armenia, nella Georgia, fino al convento domenicano di Titis. L'ostimazione dell'esercito Tartaro, cui principalmente era diretta la nostra legazione, costrisse noi missionari a ritornare in Europa. Murono momenti drammatici. Le trattative con gli esponenti militari si rivelarono argue. E il viaggio, una vera perizia. Sbarcato in Europa sul finire del 1248, partì fresco alla punta della Persia per concludere col martirio la mia verosa attività missionaria. Sbarcato in Europa. Ho unnaffiato i vostri campi e rialzi e vi ho protetti nei momenti di difficoltà. Vi avete convocato per dirimere tuoni e lampi e io sono intervenuto. Ho vegliato su di voi e sui vostri figli e continuerò a farlo. Oggi sono io a chiedervi un miracolo. Siate uniti ed aiutatevi. Trasformate le vostre invie e in ammirazioni, le vostre gelosie in stimoli per migliorarvi. Non portate l'ancore e fate in modo che le vostre gioie possano essere quelle dei vostri discipoli. Non arrendetevi di fronte alle difficoltà e nei momenti difficili. Abbiate fede perché è in quei momenti che Dio forgerà lo sguardo verso di voi. Accorriete le vostre case di richiede di coppia e abbiate il coraggio di essere differenti e di convincere di erano. Non accettate facilità di azione ma sfidate voi stessi. Siate coerenti e ritori del danno. Siate popolo, popolo di etri e popolo di Dio. Grazie. 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 Grazie.